Shamima Abegum vuole tornare a casa. La 19enne cittadina britannica, fuggita in Siria quattro anni fa per unirsi allo Stato Islamico, ha espresso la sua volontà di voler ritornare in Gran Bretagna. Lo ha detto al tabloid Times, che l'ha trovata in un campo rifugiati nel nord della Siria. Shamima non si è pentita della sua scelta, ma vuole far crescere suo figlio in un ambiente sano. È infatti al nono mese di gravidanza e ha già perso due bambini per malattia e malnutrizione. La giovane, che sostiene di aver vissuto una vita normale a Racca, ex rocaforte dell'Isis dopo aver sposato un militante olandese, potrebbe però incontrare degli ostacoli sulla sua strada. Il sottosegretario all'interno britannico Ben Wallace ha infatti dichiarato che non intende mettere a rischio la vita dei suoi funzionari e agenti per andare a cercare dei terroristi o ex terroristi.